TITOLARE, COLLABORATORI, ADDETTI DI TUTTA QUESTA MERAVILLOSA LOCATION Io devo ringraziare la nostra gioia che è seduta ad ammirare le nostre miss o ispiranti tali Salutare e rappresentare quindi una persona che non ha bisogno di presentazioni Quindi grazie Stefano Tacconi Grazie assolutamente Vorrei passare sicuramente Lucia Policastro ed è una propiacciatrice d'affari ad altissimi livelli Quindi veramente grazie per questa partecipazione È arrivata alle finali nazionali lo scorso anno grazie ad Alessandra Russo Ricraziamo ancora Salvo Tomaselli, direttore tecnico del Giorli Quindi grazie assolutamente E' Alessandra Luglianbrino Buonasera a tutti Grazie 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 a tutti